Grande fermento politico a Teramo, dove fino ad oggi si sono proposti più di 10 candidati sindaci in rappresentanza di partiti, movimenti e gruppi civici pronti a scendere in campo alle prossime elezioni amministrative di maggio. Una confusione generale che lascia spiazzati i cittadini in preda allo scoraggiamento per le troppe divisioni e per la poca concretezza dei programmi, sacrificati spesso a personalismi esasperati. Ma qualcosa si muove. Partiamo dalla notizia del giorno. Nel centro-sinistra i due sfidanti civici, Gian Guido Dalberto e Giovanni Cavallari, hanno deciso di sottoporsi alle primarie e far decidere ai Teramani chi tra loro dovrà essere candidato sindaco unico. Il Partito Democratico, infatti, nella notte ha deciso che appoggerà il candidato che risulterà vittorioso da queste primarie. Consultazioni che si dovrebbero svolgere il 25 aprile, ma non nella sede DEM di Teramo. Anche nel centro-destra qualcosa si muove. Forza Italia sceglie Gian Donato Morra come candidato sindaco per Teramo e Fratelli d'Italia se ne intesta ufficialmente la candidatura. Manca ora la decisione finale della Lega, che ancora preferisce a Morra l'avvocato Lucio Del Paggio. Quest'ultimo, però, potrebbe essere sacrificato in cambio di una futura candidatura leghista alla presidenza della regione Abruzzo. La decisione dovrebbe arrivare in giornata. E mentre centro-destra e centro-sinistra stentano ancora a trovare una quadra, il Movimento 5 Stelle naviga in acque molto più calme e sicure. Il candidato sindaco Cristiano Rocchetti ha presentato, durante un aperitivo di autofinanziamento a San Nicolò, il suo programma elettorale, riassunto in dieci punti strategici, che mira principalmente all'eliminazione degli sprechi della politica, al nuovo polo scolastico a Piazzale San Francesco, all'abbattimento delle barriere architettoniche e ai problemi della disabilità. Per il numero definitivo dei candidati sindaci tutto ancora in divenire. Se volessimo fotografare la situazione attuale c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Gian Guido D'Alberto, Giovanni Cavallari, Alberto Covelli, Serafino Pulcini per movimenti civici, Gian Donato Morra e Lucio Del Paggio per il centrodestra. Cristiano Rocchetti, Movimento 5 Stelle, Paola Cardelli, Sinistra Storica, Gianluca Pomante, Abruzzo Civico e Simona Lupi, Popolo della Famiglia. E allora c'è chi, come il fotografo terramano Luca Boschi, ha deciso di sdrammatizzare l'imbarazzo della situazione e riderci sopra, realizzando delle spille eloquenti su quello che sta succedendo a Teramo.